Buonasera Il sindaco Luca Caselli ha scritto una lettera ai sassolesi in vista delle feste di Natale e di Capodanno. Il primo cittadino ha parlato della crisi e di SGP, confermando anche i dubbi sul suo futuro politico. I sassolesi stanno soffrendo ma non mollano mai, ha detto Caselli, che ha definito il suo impegno da sindaco difficile ma anche stimolante oltre che un onore. Sassuolo è sempre bella, secondo Caselli, che esorta gli adulti a guardare al futuro con fiducia, anche per i loro figli e i loro nipoti. Infine, gli auguri di un buon Natale e di un buon 2014, con l'obiettivo di tornare bambini per un giorno e vivere serenamente le feste. A 20 giorni dall'attivazione dei varchi che controllano l'accesso alla zona traffico limitato del centro storico, il comandante della Polizia Municipale Stefano Faso trae un bilancio di questo primo periodo. Ecco le sue parole. Comandante, si è iniziato un percorso che probabilmente anche nella forma che voi pensavate non sta producendo molti abusi di passaggio, anche se qualcuno c'è. Come stanno andando le cose? Le cose stanno andando per come aveva un preventivato che andassero, nel senso che questo sistema di controllo dei varchi non nasce per andare, come dice qualcuno, attorno alle tasche delle persone, bensì per disciplinare, regolare e limitare il traffico in centro storico a quelli che hanno titolo per il centro storico andare. Parliamo dei commercianti, dei residenti e chi comunque ha un valido motivo per andarci e quindi è titolare di un'autorizzazione. Ci sono delle particolari richieste? Ci riferiamo magari in modo più evidente ai commercianti? Per i commercianti, così come era stato deciso già in giunta e durante tutte le riunioni, sostanzialmente abbiamo anticipato la disciplina che andrà in vigore il primo di marzo, ossia gli abbiamo dato la possibilità di accedere e di effettuare il carico dello scarico in fasce orare più ampia di quelle che avevano in precedenza. Quindi non l'ora che c'era prevista, bensì le 3 ore al mattino e le 5 ore al pomeriggio, previo, logicamente, stazionamento di mezz'ora. Sì, la mezz'ora rimane tale perché è finalizzata l'attività dell'esercizio commerciale. Per intenderci, i commercianti con la vecchia normativa, con le vecchie regole, potevano accedere fino alle 9 e poi dalle 19.30 alle 20.30. Abbiamo considerato che un commerciante che è un'attività, bisogna tarare il permesso sull'orario dell'attività, per cui potranno accedere in una fascia oraria mattina molto più ampia e il pomeriggio nell'orario dell'attività dell'esercizio, sia dalle 15.30 alle 19.30, se non addirittura alle 20.30. Cominceranno ad arrivare le multe a partire da metà gennaio? A metà gennaio noi consideriamo di mandare via i primi lotti di multe e ci stiamo prendendo un po' di tempo per essere sicuri che il sistema giri come deve girare, ossia nel migliore dei modi, che non produca le cosiddette cartelle pazze o multe che non hanno significato e non sono supportate da una valida motivazione. Ultima cosa, c'è un buon numero di permessi e quindi gli utenti che ne hanno diritto, che lo detengono dovranno cambiarlo prima della fine di febbraio. Allora abbiamo stabilito che nella seconda metà di febbraio, quindi la penultima settimana, chi passerà per SGP col vecchio permesso potrà già ritirare il nuovo per usarlo il primo di marzo. Coloro che non saranno passati invece gli verrà spedito a casa in modo che il primo di marzo tutti i permessi nuovi possano sostituire i vecchi. Si è svolto sabato mattina a Camarta un convegno sull'immigrazione. Presenti autorità italiane e marocchine, tra cui il Vice Consule Generale del Regno del Marocco a Bologna e una rappresentanza della CGL di Modena. Per Sassuolo c'era l'associazione Eluda. Hanno partecipato anche Akmar di Fiorano, Le Palme di Formigine, Grande Magreb di Reggio Emilia e El Wafa di Brescia. Sempre sabato mattina, ma all'ospedale, c'è stata la consueta visita di Babbo Natale ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria. I clown dottori, di ridere per vivere, dopo aver consegnato alcuni pacchi dono ai bambini, hanno partecipato con loro ad alcune attività nella sala giochi del reparto. L'organizzazione dell'iniziativa è stata curata dalla direzione dell'ospedale e dalla dirigenza del secondo istituto comprensivo, oltre che dalla ditta Angelini, che ha fornito i pacchi dono per i giovani pazienti. Passiamo allo sport. Sconfitta Amara per il sassuolo calcio contro la Fiorentina. I neroverdi, che ieri hanno disputato una buona prova, sono stati trafitti da un tiro di Giuseppe Rossi all'ottantaduesimo e non sono stati in grado di recuperare lo svantaggio. Ora, in classifica, sono al terz'ultimo posto. Il mercato di gennaio dovrebbe comportare diverse novità, a livello di organico e forse anche di società. Prossimo impegno, lunedì 6 gennaio, in trasferta contro il Genoa. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.